Lo stimolo dei solisti è uno stimolo importantissimo. Daniel Trifono, per esempio, con il quale collaboriamo adesso per la persecuzione delle quarti di Rachmaninoff è un solista di livellatura eccezionale, di livello straordinario che ci porta a dover per forza competere in qualche modo con un livello eccesso dal punto di vista pianistico. E questo è il mio terzo tempo a il Festival Pianistico di Brescia in Bergamo, è un paio molto speciale per me e sono felice che è il mio terzo tempo che ho spiegato qui. Questo concerto è in un modo una musica di chamber. Ci sono molte interazioni con l'orchestra e il piano parte di questo concerto è molto più collaborativo con l'orchestra musica in comparazione con il secondo e il terzo concerto, per esempio. Il nostro corso centrale è il nostro corso dei libri di Pianistico di Brescia in Rigoli. È determinante lavorare con i solisti affermati, i musicisti che collaborano con la nostra orchestra. Il musicista stesso si confronta con un grande solista per cui è un arricchirsi a vicenda delle varie esperienze musicali e questo fa sì che il gruppo cresce, tutti si uniscono e si ottiene un ottimo risultato. È stata una condivisione di un messaggio più alto di noi con tutti i violinisti, con tutti i violisti, con tutti i violoncellisti, con tutti i singoli membri perché Bach ci insegna come ogni voce, come ogni suono sia complementare ad un altro. Per cui la musica è semplicemente gioia e questa musica soprattutto è gioia. I progressi ci sono perché quando c'è la volontà di lavorare tutti insieme per un risultato finale buono c'è lo stesso impegno da parte di tutti e a forza di suonare insieme si al suono, all'affiacamento. Quest'orchestra sta diventando un corpo unico di persone che suonano come se fossero un'unica cosa.